L'etica è un'armatura di calcare. Nel corpo attecchiscono, come tarme nel legno, le mie stesse cuciture. E' questo profondo rosicchiare del cotone, questo sfregare continuo i tessuti del mondo col corpo coperto, che ha il sapore delle cose consumate. Ed è per questo che mentre il corpo muore, sulla pietra la luce è ruga monumentale. Qui bisogna spogliarsi senza paura, perdere la protezione e sentirsi nudi e superflui. Grazie. 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 Grazie.